Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il riconoscimento della cittadinanza alle persone di origine straniera che vivono in Italia è stato al centro del dibattito che ha coinvolto in aula consiglieri di maggioranza e opposizione 5 gli ordini del giorno discussi, Mercedes Bresso, uniti per Bresso. Nel nostro ordine del giorno noi invitiamo il Parlamento italiano a legiferare tenendo conto che i bambini nati in Italia, anche da genitori stranieri, sono una risorsa su cui il Paese investe e quindi va offerta loro l'opportunità di diventare italiani. Augusta Montaruli, Popolo della Libertà. Il PDL ha ritenuto irricevibili gli ordini del giorno dell'opposizione in tema di cittadinanza perché l'approccio era assolutamente sbagliato. Non affrontavano infatti anche il tema dell'integrazione. Gli italiani non lo si può diventare. Per caso lo si può diventare soltanto o per tradizione o per una scelta che però deve essere comprovata. Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, e Patricia O'Donovan, direttore del Centro di Formazione ONU di Torino, hanno firmato un protocollo d'intesa per il 2012. L'accordo prevede la visita dei corsisti del CIFOIL alla sede del Consiglio regionale. Inoltre, per conoscere meglio la realtà piemontese, saranno organizzati incontri su ambiente, enogastronomia, patrimonio culturale turistico e piccole imprese. I gravi problemi della ricezione del digitale terrestre in Piemonte sono stati affrontati dal presidente del Core con Piemonte, Bruno Geraci, con il commissario Ezio Ercole, nell'incontro a Palazzo Cisterna di Torino con il Consiglio di Presidenza dell'Unione delle Provincie Piemontesi. I presidenti si sono impegnati a rilevare entro due settimane, comune per comune, la situazione della qualità della ricezione del segnale dei servizi regionali di Rai 3 e quella delle TV locali. Piemonte è protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, al centro della proposta piemontese sport e no gastronomia, benessere e turismo legato al mondo dello spettacolo. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Ho potuto verificare personalmente con questa mia giornata qui alla BIT l'interesse di tanti potenziali turisti di venire in Piemonte, di trascorrere le proprie vacanze in Piemonte e credo che con le nostre peculiarità che sono state rappresentate in queste giornate e che continueranno a essere rappresentate, possiamo sicuramente auspicare un 2012 alla grande. In occasione dell'8 marzo Festa della Donna, il Consiglio regionale del Piemonte, con la consulta delle elette, propone lo spettacolo teatrale Sante Madri Sirene in quattro capoluoghi di provincia. L'ingresso è gratuito sino a esaurimento posti. Giuliana Manica, presidente della consulta, ha sottolineato che anche questo spettacolo aiuta la riflessione sul valore della festa della donna. Gli appuntamenti, il primo marzo ad Asti, il 2 a Cuneo, il 3 a Torino e il 12 a Novara. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.